Un thriller d'autore con Eric Banner. Sono un vecchio amico di Luke. È andato a casa e ha sparato a lei e al ragazzino. Sei convinta che sia stato lui? Hai mentito, Luke, Aaron. Anche Luke mentiva, io lo sapevo. C'è un collegamento tra quelle morti. Quando menti su una cosa per tanto tempo, diventa una seconda natura. In prima visione, chi è senza peccato, vedrai. Venerdì alle 21.20 a Rai3.